I cori di me Grazie ancora a voi per aver scelto me e per avermi dato l'opportunità di essere qui e partecipare a questo progetto. Quindi viva il lupo e buona musica. Una serata ricca di emozioni, di buona musica, quella che si è tenuta al Teatro Partenio per dare nuova linfa al progetto Senegal Africa Chiama dell'Associazione di Promozione Sociale Avellino per il Mondo, rappresentata da Elvira Napoletano, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Avellino. E l'invito a dare un aiuto concreto a chi ne ha davvero bisogno è stato fatto da Mariella Nava Trio. Sul palco, Mariella Nava, una delle cantautrici più raffinata della musica italiana, accompagnata da Stefano Ripa alle percursioni da Gianluca Marino alla chitarra, ha portato in scena un concerto che ha posto il cuore e la musica al centro di questo importante progetto benefico. Una serata solidale, un concerto benefico per ridare dignità, una concreta mano agli abitanti del villaggio di Tidelli, in Senegal, per la costruzione di un polio ambulatorio e per altre donazioni utili alle persone che vivono situazioni disagiate in quella terra.